Allora, sono insieme a Marco Meloni, abbiamo un altro appuntamento per commentare un tavolo che è appena iniziato. Sono messo gli occhiali perché sennò non vedo le carte. Ecco perché questo cambiamento. Mentre prima potevo barare, adesso non posso più. Qualcosa era strano. Siamo al settimo livello, i bui sono 300-600 ante 65, è appena cominciata questa mano, per ora abbiamo avuto 4 fold. E' giacalone del Team Pro, vabbè Team Pro, parola grossa. Sì, che sorride con telefonina, tutto allegro. E' un amico del Team Pro Online di BetPro, apre 1500 se non sbaglio, 1200, 1200. Tutti giocatori molto seri, vero? Call da bottone di Franco Franchi, call dello small blind e completa il grande buio. Quindi ci giochiamo un pot in 4 players, circa 5000 di piatto. Flop 769, rainbow, cioè di colore tutte diverse. Il piccolo buio esce puntando 3000. Sentendoti comunque sei espertissimo. Fall del grande buio, a commentare sono esperto, giocare un po' meno. Giacalone, che è il giocatore che ha fatto action, ha fatto azione pre-flop, continua nella sua azione a fare i 7000, quindi rilancia il bet del piccolo buio che si limita al call. Quindi dei 4 giocatori al flop ne rimangono in gioco 2. Quindi sono in 4? Un 4 per un pot di 8-13 mila più o meno. Jack Altarn, continua l'azione del piccolo buio che fa 5000 e abbiamo l'olin di giacalone. Chiedono il conto. Uno lì, siamo fortunatissimi. Lolin è di 13 mila, quindi c'è il call, abbiamo lo showdown. Tris ha il flop per giacalone, che ha tris di 9 e una bilaterale invece per il giocatore sullo small blind. Non si chiude la bilaterale, quindi giacalone raddoppia. Io sono molto contento, perché lui è un bravissimo giocatore, insegna anche la scuola. Io penso di avere almeno il 5% di giacalone dopo questa mano qua. Ti abbiamo portato fortuna, lo sai, questa volta. Adesso avviciniamo perché, infatti, cosa stavi dicendo? Visto che siamo arrivati hai vinto? Infatti puoi tornare quando vuoi. Lui no però. Io ho il 5% di questa. Ma sono venuta prima da sola e non è funzionato. Sono venuta con lui e hai vinto. Preferisco perdere. No, tu mi devi dare il 5%. È vero, lui sei guadagnato il 5%, il 5% sei guadagnato sicuro. È ufficiale detta la televisione, quindi se arrivi non puoi... Fingiamo una mano perché hai il 5%. Qua un business nato di nuovo e tu hai guadagnato. Speriamo. Però io ti ho portato qua, quindi la mia parte di questo caso? Una cena di pesce, dal 5% ci sarà... No, va bene. Sì, è chiaro. Non ci perde mai, è incredibile. Non ci perde mai nulla perché te l'avrebbe offerto lo stesso. Bastava che gliela chiedevi e te l'offriva. Va bene. Grazie mille, Marco. Direi che siamo stati veramente fortunati. Sì, abbiamo visto la vincita di Gabriele e un tavolo molto bello. Va bene. Tu stai per abbandonarmi, giusto? Sì, vado a Gorica, sì. Parto adesso, vado su a vedere cosa succede nell'altra location. Allora io ti ringrazio oggi e ieri, il tuo aiuto che mi hai dato, che era grandissimo e è servito tantissimo. Ci vediamo per il prossimo evento. Perfetto, ci vediamo sicuramente la prossima volta. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie. I restituisca la linea.